Buongiorno signori, benvenuti a tutti, vi invitiamo intanto a sedervi. Un applauso perché siete qua e volete parlare con noi di economia circolare della plastica, che dicevamo prima non è lo spettegules che tira sempre. No, infatti ho detto, per attirare un po' di gente, cominciamo a parlare di pettegolezzi, di inciuci, Michelle Unziker, come sta, con chi si è fidanzata, ma il lato B è sempre quello della pubblicità, Roberta, oppure no, queste cose qua poi arrivano tutti quanti perché tira. E poi dopo tac, li infreghiamo sull'economia circolare della plastica. Economia circolare però in realtà è un tema che tira, economia circolare quindi ottimizzare tutto il ciclo di produzione, di quello che utilizziamo normalmente, recuperare, riciclare, sono temi che tu ben sai, ormai essere sulla bocca di tanti e soprattutto di tanti ragazzi, poi tra poco ci arriveremo, e parleremo ovviamente anche di plastica, la quale è anche lei sulla bocca di tutti. Negli ultimi anni adesso è un po' scemata, per ovvi motivi abbiamo avuto preoccupazioni diverse, però sicuramente il tema della plastica è sempre uno dei temi in discussione e a volte anche in maniera scorretta arriveremo a parlare anche di questo. Oggi partiamo, veramente vedremo tutti i punti, dalla produzione alla raccolta, riciclo, recupero, tutto quello che si può dire del tema plastica e di economia circolare, ma vogliamo parlare all'inizio di qualcosa di un po' più frizzante con te. Frizzante, dai. Luca Bette, conduttore televisivo, è ideatore anche però di un'iniziativa che c'è molto cara, della quale parliamo con lui oggi, non ci ferma nessuno. Chi non ferma qui? Vabbè è una campagna sociale che ha un valore molto molto alto per i giovani, è una campagna sociale che è nata per stimolarli a non fermarsi davanti alle difficoltà e poi col tempo è diventato un contenitore, un contenitore all'interno del quale sono confluite un po' di cose che hanno a cuore i ragazzi, tra cui anche naturalmente le dinamiche del riciclo e la sostenibilità, insomma tutte quelle cose di cui si parla qui che poi i ragazzi molto spesso hanno imparato a snocciolare, sviluppare, a imporre in una maniera molto molto più forte di quella che stanno fare gli adulti. Quindi è una campagna sociale, la quale vi parlerò tra pochissimo, che vi piacerà, sono sicuro. Sicuramente, sicuramente ci incuriosisce, non ci ferma nessuno, anche perché contiene un germe importante che è quello della conoscenza. Non si può parlare esclusivamente appunto di slogan o prendere input, ma bisogna anche sapere le cose, sapere come si agisce, come si lavora, quali sono i problemi, quali sono le implicazioni, cioè non si può togliere semplicemente un mattoncino e dire questo non lo faccio più e andare avanti come prima. Bisogna ragionare sul tutto. Mi sembra molto importante quello che è il lavoro che stai facendo che ti porta tra l'altro in tour nelle università. La molla che muove il tutto è questa, cioè parlare per una volta non di successo ad ogni costo. Perché noi da quando siamo piccoli, diciamocelo, ci dicono sempre che dobbiamo diventare i più bravi. Abbiamo sempre questa ossessione. Ci sono ragazzi che stimolati in questo modo veramente volano, ma ci sono tanti che con l'ossessione di diventare migliori, di raggiungere la cima della vetta, rischiano di non mettersi proprio in moto. Allora noi in questo tour, in questa campagna sociale dal 2014, questa è l'ottava edizione, parliamo solo di insuccessi, solo di sfiga, solo di momenti difficili e magari renderci conto che alla fine quella difficoltà che sembra capiti soltanto a noi, a me, a te, a voi, a un ragazzo, alla fine accomuna un po' tutti. Ecco, creare una community di ragazzi che si confrontano e capiscono che da un punto di vista quello che è successo a loro è successo anche ad altri, altri l'hanno superato, lo stanno affrontando e lo supereranno, diventa un modo per far sentire tutti quanti un po' più vicini, accorciare le distanze e regalare un po' di forza e un po' di fiducia. Quindi ci tengo a dirlo, io dico ma che fai, life coach? No, attenzione, attenzione, maestri di vita? No, grazie. Io sono semplicemente uno dei tanti che va lì a parlare con i ragazzi, si mette a nudo raccontando soltanto i momenti bui, solo i momenti difficili, quelle volte che il sogno sembrava ti stesse sfuggendo e che sei caduto, sei inciampato e magari ti sei rialzato e questo è quello che ai ragazzi serve, storie credibili alle quali aggrappare la propria fiducia. Allora, io così faccio, come si dice quando uno si dice quello che ha fallito, io ho fallito il primo convegno in pubblico ad esempio, mi sono mancate le parole, lo dico se vuoi vengo una volta a parlare in pubblico che adesso è diventato il mio mestiere con la radio, i convegni, quello che è, la prima volta per me fu una totale figura di M, totale. Guardavo la suora in prima fila come se la suora potesse darmi così un implusso positivo ma non mi veniva una parola qualunque da dire. Luca io ti lascerei adesso però il palco, ho fatto anche il mio, mi sono pronunciata, sul mio grande fallimento. Grazie, grazie. Facciamo un applauso a questa introduzione che serviva, no? Allora, io sono qui molto contento perché devo dire la verità, lo dicevamo prima, io non conoscevo, come del resto magari può capitare anche ad altri, la grandissima realtà, la grandissima economia che c'era dietro, fatta di professionisti, fatta di imprese che c'è dietro la distribuzione. Ecco, l'ho scoperta per caso, come dicevamo prima, perché è nata questa collaborazione per questo progetto. Io volevo fare un piccolo passaggio all'indietro perché molti di voi diranno scusate ma che ci fa Luca Bete qua oggi? Che ci azzecca? Lui, direbbero, dalle mie parti. Ecco, innanzitutto sono Luca Bete, quello là con la giacca verde, no? Perché quando qualcuno mi vede senza giacca verde mi confonde, una volta un bambino mi vide e disse, mamma l'ho riconosciuto, è Claudio Bisio, no? Perché una pelata poi potrebbe creare anche un po' di... Io la giacca verde non l'ho messa, però sono proprio con la Luca a Bete, quello là di striscia, ecco, insomma, quello lì che si tiene in forma inseguendo i truffatori che scappano, no? Oppure si tiene in forma quando scappa dagli truffatori che lo inseguono, insomma, sempre quella dinamica là, insomma, guardate che figurino, che figurino. Allora, no, io sono nato in una famiglia più o meno normale, voglio dire, ad Avellino, città all'interno della campagna, nel cuore della campagna, non so se ci siete mai stati, se venite fatemelo sapere, vi porto a cena, si mangia bene, e sono cresciuto in una famiglia con dei valori particolarmente sani, devo dire la verità, sono molto fortunato, il rispetto, la legalità, l'amore per l'ambiente, mio padre aveva anche, aveva un'associazione, una piccola associazione con la quale sposava delle cause in favore dell'ambiente. Ho studiato architettura, però a un certo punto ho cominciato a fare l'animatore, ecco, non l'animatore nei villaggi che rimorchia le femmine, tu già stavi pensando abete rimorchi a destra e a manca, no, abete praticamente, c'è l'animatore ai matrimoni napoletani, quindi quelle cose che voi già sapete quanto siano impegnative e quanto sono belle anche, perché ci sono più cantanti là che al Festival di Sanremo, no, però si mangia bene anche. Ho cominciato a fare il clown e ho scoperto quanto sia bello donare il proprio impegno, una parte di se stessi, al prossimo, quanto sia bello poter regalare un sorriso alle persone. Il clown è qualcosa di meraviglioso perché il clown vive sulla logica del dare senza niente in cambio. Il clown dà, ma mica ti dice, oh, ti ho fatto ridere mezz'ora, quando mi dai sta mezz'ora di risate che ti ho dato? No, il clown è felice nel vedere il proprio pubblico felice. E io ero un clown che viveva di queste cose. Vi dico questo perché? Perché questa leva ha stravolto, diciamo così, i miei progetti. Volevo fare l'architetto e a un certo punto ho capito che questa era veramente la mia vocazione, questo era il mondo che mi faceva stare bene. Regalare un sorriso a qualcuno era qualcosa di importante. E potete immaginare quanto la mia carriera mi abbia dato la possibilità di portare a uno sviluppo successivo, a un gradino successivo, questo meccanismo. Perché in una cameretta con 20 bambini o a un matrimonio con 10 bambini potevo regalare un sorriso a 10 persone, a 15 bambini. A striscia la notizia ci sono milioni di telespettatori che guardano il mio programma, il mio servizio e magari riesco a regalare un sorriso, ma ancora di più, a risolvere addirittura dei problemi. Cioè ero un clown con i superpoteri, ecco sono diventato un clown con i superpoteri. La mia terra praticamente è una terra bellissima, la Campania è uno dei posti più belli che esiste al mondo, c'è tutto, c'è un vulcano fantastico, scavi archeologici in quantità, architettura che non finisce mai, stanno più chiese che pizze sfornate in altre regioni, c'è tutto, la musica, la gastronomia, c'è tutto, ma quando sono arrivato a striscia io sono stato praticamente benedetto dall'emergenza ai rifiuti del 2008. Un qualcosa che se ve la racconto non potete immaginarvi perché l'avete vista in televisione, ma io ricordo ancora le scene allucinanti, gli ospedali con le montagne di spazzatura non raccolta che arrivavano al primo piano, sul balcone, cioè dal balcone ti affacciavi e potevi prendere il sacchetto. Ho fatto il mio percorso proprio basando molto su questo principio del rispetto per l'ambiente e della lotta contro la cattiva gestione di tutto ciò. Nel 2008 era qualcosa di terribile, ma non è che la situazione era soltanto quella che poi derivava dalla mancata raccolta dei rifiuti, dalle scariche sature e da tanti altri meccanismi contorti, cervellotici, assurdi che avevano generato una delle cose più vergognose che si potesse immaginare. C'erano altre storie incredibili che mi hanno stupito perché? Perché intorno non venivano viste come gravi. Parlo della terra dei fuochi, quando nel 2009 ho fatto i miei primi servizi non esisteva ancora la parola terra dei fuochi, il termine, l'etichetta, il brand, oggi lo chiameremo l'hashtag terra dei fuochi, non esisteva, c'era soltanto un'economia balorda, abusiva, a nero che praticamente smaltiva scarti di lavorazione industriale e creava quel disastro di roghi, di rifiuti interrati e di cose allucinanti. Quando io andavo in giro e dicevo scusi ma cosa sono tutte queste colonne di fumo? La gente sapete cosa mi diceva? Wow Luca è normale, è normale cosa? Ma ci sono sempre state, è sempre stato così. E allora io capì che c'era un problema serio, che non erano i roghi, era la mentalità ormai assuefatta della gente che non si scandalizzava più davanti a questo orrore, a questo scempio, a questa cosa veramente incivile e maledetta. Ho fatto i miei primi servizi correndo nei campi, quando vedevi i roghi io corrivo nei campi sperando di trovare chi l'avesse appiccato. Avevo una media di un paio di scarpe a settimana perché correndo nei campi pieni di fango le dovevo buttare poi e qualche volta le ho beccate. Scappare, nelle coltivazioni inseguiti nei frutteti mentre stavano così dando fuoco a tutta questa robaccia. Ecco, i primi servizi sono stati accompagnati da minacce di morte. Perché? Perché quando tu sei solo a combattere contro una cosa giusta come questa sei attaccabilissimo. Io ero un pazzo che stava dicendo un qualcosa che la gente riputava normale e che ovviamente dava fastidio a tutti quelli che guadagnavano milioni grazie a questo business. Poi le cose sono cambiate un po' alla volta e naturalmente è nata una consapevolezza maggiore. Ci sono state manifestazioni, i dati dei bambini morti per tumori, tutti quanti con lo stesso problema, questi bambini della terra dei fuochi. È possibile mai. Quindi è nata l'etichetta terra dei fuochi, è nato il movimento popolare che nasce dal basso. Non sono stato più solo in questa battaglia, la battaglia è diventata di tutti e questa vi confesso è la più grande soddisfazione che chi lavora in televisione, chi fa denuncia come faccio io e chi ci crede particolarmente può provare. Ma, e vengo al problema della plastica, a proposito di mentalità devo dirvi che una delle cose più allucinanti che mi è capitato di vedere era proprio l'abitudine delle persone di smaltire rifiuti nella maniera più scellerata. Una di queste era, clamorosa, Napoli dal Vesuvio fino alle zone di Caserta ha un impianto di reggimentazione dell'acqua che praticamente si chiama Reggilagni, è stata fatta dai Borbone. Praticamente l'acqua dal Vesuvio scende e arriva fino al mare, però a Caserta fa tantissimi chilometri. Le persone durante i periodi estivi, quando non piove, erano abituate a buttare spazzatura in questi canali, questi canali erano pieni di spazzatura, con la conseguenza che quando c'era una pioggia, una pioggia forte, piogge torrenziali, temporali, quei tre giorni di pioggia clamorosa, l'acqua raccoglieva tutto e portava tutto a mare. Forse vi sarà capitato di vederlo in televisione, sui giornali, a qualche parte. Io approfitto di Marco, vi facciamo un applauso perché c'è chi lavora dietro le quinte e merita sempre un applauso. Ho portato un brevissimo video che ho registrato qualche anno fa a Plastic Beach, l'ho ribattezzata così. Il nome già vi fa capire di che cosa sto parlando. Guardatelo un attimo, dopo lo commentiamo insieme. Sulla spiaggia infatti non è possibile intravedere neanche un granello di sabbia perché a terra c'è un vero e proprio tappeto di scarti plastici. Le bottiglie non si contano, ma non mancano neanche flaconi di detersivi, tubi, taniche di olio motore, termos, giocattoli e un'ampia gamma di polistirolo. Abbiamo quello a blocco gigante, quello forellato e quello sbriciolato. Guardate a terra quanto ce n'è. Tutto questo succede perché c'è ancora chi continua a sversare rifiuti sugli argini dei fiumi che con le piogge abbondanti si riempiono diventando così dei portatori sani di munnezza di ogni tipo. In diverse occasioni abbiamo denunciato lo smaltimento illecito di rifiuti domestici e speciali nei fiumi e nei canali di raccolta delle acque piovane. Nel 2011 le immagini dei reggilagni pieni di materiale plastico galleggiante trasportato dall'acqua stupì e indignò tutti. A questo punto mi chiedo, c'è più munnezza su questa spiaggia o più munnezza tra le persone che probabilmente nella testa hanno i rifiuti? In civiltà questa è più che altro. In civiltà? Sì, che botteniamo tutto di scarica al mare, con mare, l'automante si risciutano non essi che bottono mare. Il mare produce pesce, non produce buttegno. E con questa massima possiamo dire quindi che il nostro reportage si chiude qui, ci auguriamo di rivedere presto spiagge vere, magari con la sabbia, ecco chiediamo troppo, spiagge con la sabbia. Quindi l'avete visto, è uno dei tanti casi che però mi ha visto particolarmente sensibile da due punti di vista. Uno c'era una battaglia da portare avanti, era fondamentale far capire quanto tutto questo fosse assurdo, incivile, balordo e vi assicuro che le cose sono migliorate ma non è che sono state risolte, continuano a esserci situazioni di questo tipo, magari anche in altre zone, poi non lo so, però qui siamo in un litorale bellissimo, sono 40 km di spiaggia con un tramonto fantastico a mare dove praticamente c'è quello che avete visto molto spesso. Il secondo fattore però era un altro, perché colpevolizzare la plastica? Perché poi questo qui è un tema sul quale dobbiamo ragionare un po' tutti. Siamo manipolati sempre da un colpevolizzare chi? Chi non si può difendere? Chi non ha voce in capitolo? Allora siamo tutti d'accordo, ridurre la plastica è necessario, ma quel problema lì è un problema derivante dalla plastica che ha le zampette e cammina, la plastica ha le gambe e cammina, l'unica plastica con le gambe che ho visto era Barbie, Cicciobello, quello è un altro discorso, è un discorso che parte, come ben sapete, non lo devo sottolineare, da una mentalità balorda che provoca tutto questo. Allora ho cercato di far capire nei miei servizi una cosa, che non è un problema di plastica soltanto, ma è un problema anche di persone che devono entrare in un'ottica diversa. Allora ben vengano iniziative come queste e come tante altre che hanno a cuore anche una divulgazione secondo le strategie più diffuse, ne esistono centomila probabilmente, che possano comunque sviluppare un qualcosa sul quale tutti quanti siamo d'accordo, però alla fine forse facciamo sempre poco. E quando ho messo su questo progetto del quale vi accennavamo, questo qui di Non ci ferma nessuno, questa campagna sociale motivazionale rivolta ai giovani, ho basato i primi tre anni sull'ascolto, perché ho fatto un ragionamento, ho detto ma non devo essere io a decidere cosa i ragazzi vogliono ascoltare da me, devono essere i ragazzi a dirmi gli argomenti che hanno particolarmente a cuore. Quindi ho affidato ai professori della sapienza tre ricerche sociologiche che sono poi confluite in tre pubblicazioni, dalle quali sono emerse le opinioni, le criticità, le paure, i ragionamenti che i ragazzi fanno tra loro e che servivano a me per alimentare una campagna sociale veramente efficace. E che cosa è emerso? Tante cose, tra cui anche la sensibilità su questo argomento, il rispetto per l'ambiente, probabilmente molti ragazzi lo stanno insegnando agli adulti, quei modi che a volte piacciono, a volte no, ma che comunque a volte servono. E quindi abbiamo messo su delle collaborazioni all'interno di questo progetto che potessero dare l'opportunità ai ragazzi in un momento così carico di emozioni, perché in due ore i ragazzi si raccontano, parlano, trovano energie che non pensavano di avere, ebbene loro riescono a essere particolarmente emotivamente sensibili anche a queste dinamiche qui. E quindi negli anni con Corepla abbiamo realizzato delle iniziative davvero molto belle, in due anni abbiamo fatto una chiamata alle idee, Call for Ideas, loro progettavano delle idee che nascevano dal riciclo della plastica che sono state anche poi realizzate come sotto forma di prototipo e alcuni hanno avuto anche degli sviluppi particolarmente interessanti. Abbiamo parlato di dinamiche diverse con delle provocazioni, con l'occasione che si è sviluppata poi sui social network. E quest'anno è nata questa bellissima, secondo me, partnership, questo gemellaggio con il progetto Rivending. Il progetto Rivending che nasce intorno ai distributori automatici e in particolare noi l'abbiamo rivolto ai ragazzi perché i distributori automatici nelle università sono tantissimi, anzi rappresentano forse uno dei momenti più belli della giornata per loro perché tra una lezione e l'altra si fermano per un caffè, per uno snack, per qualcosa e restano lì vicini e quel posto è particolarmente caro a loro. Quindi la distribuzione di contenitori utili per riciclare bicchierini, palette e bottigliette diventa un qualcosa di straordinario, di particolarmente coerente. Alcune università hanno già aderito, altre stanno aderendo ed è questo sicuramente il meccanismo vincente per creare quell'economia circolare che poi funziona. I ragazzi hanno particolarmente a cuore questa dinamica e quindi anche a noi fa piacere seguirli e portare avanti su questo canale questo progetto, sperando di poter arrivare a incrementare, sono già tantissimi, quindi è davvero già un progetto molto ben avviato, però anche nelle università distribuirlo ha un duplice valore anche in questo caso, ha un valore perché si raccoglie la materia prima, la chiamo materia prima, non scarto, e si educa, si valorizza il canale della sensibilità che per i ragazzi è particolarmente caro. Quindi io concludo, perché mi sa che siamo un po' fuori tempo, concludo dicendo che il mio augurio è quello di poter continuare a strisciare la notizia, a sostenere tante cause, tra cui anche queste che vi ho mostrato, con non ci ferma nessuno ad alimentare la fiducia e il coraggio di tanti ragazzi in sintonia naturalmente con il proprio ambiente, perché parliamo spesso ai ragazzi di trovare dentro se stessi quelle motivazioni, quella fiducia, quel coraggio per affrontare le difficoltà, ma sono sicuro di una cosa che dentro abbiamo sicuramente delle risorse, ma il grande valore di un uomo o di una donna, di un professionista di domani passa anche dal giusto equilibrio con l'ambiente circostante e allora non dobbiamo mai smettere di creare piccole, grandi occasioni di riflessioni, di attività e che possano veramente alimentare la crescita di tanti ragazzi che sono, lo dico, è una banalità lo so, che sono i professionisti di domani, sono quelli che dovranno salvarci da altri problemi, da altre cose, dovranno gestire il nostro paese e quindi non dobbiamo mai smettere secondo il mio punto di vista di dare loro occasioni per affermarsi e per crescere e per arrivare lontano. Grazie. Grazie a te Luca, grazie a te e cosa ti volevo chiedere, ma Plastic Beach ci sei tornato? Plastic Beach è un fenomeno... Ci sei rimasta qua quell'immagine. No, ci vuoi andare in vacanza. Perché no? No, a me molto spesso mi chiamano e mi dicono Luca, vengo a Napoli, mi porti, mi dici dove posso trovare Scampia, ma scusa ma quel posto dove trovasti quella cosa, dove sta? Mi chiedono il turismo macabro del vedere l'orrore e andarlo a cercare dal vivo. L'avevo pensato in positivo. No, no, Plastic Beach torna ciclicamente purtroppo, meno di alcune volte, però purtroppo... Merito anche dei lavori come quelli che state facendo. Ce la mettiamo tutta. Grazie davvero, grazie, buon proseguimento, se ci vuoi continuare a seguire, noi andiamo avanti. Allora, chiamo sul palco i nostri ospiti, a questo punto l'assessore Cattaneo, assessore all'ambiente della regione Lombardia, Antonio Protopapa, direttore gestione operativa di Corepla, Ernesto Piloni, questo per lei, il presidente di Venditalia, Erika Simonazzi che è il direttore marketing di Flow e Carlo Alberto Pratesi, professore dell'Università Roma 3, ordinario di marketing, innovazione e sostenibilità. Io mi sono messa in mezzo così che voi possiate muovervi. Allora, assessore, abbiamo sentito tante mobilitazioni dei ragazzi, ma ci vuole anche un quadro poi, quando si va a lavorare, i ragazzi devono trovare un po' apparecchiato per poter soddisfare anche le loro aspettative. La regione Lombardia è piuttosto avanti, fortunatamente, in questo contesto e quindi a lei la parola un po' per illustrarci la situazione e le iniziative. Grazie, sì, lo farò facendovi vedere anche alcuni dati, ma permettetemi di cominciare sull'onda di quello che diceva Bete. Quando io ho cominciato a fare l'assessore nel 2018 sono venuti a trovarmi un po' tutti, e tra questi è venuto a trovarmi per esempio LifeGate che è una grande community che si occupa di sostenibilità, ha una radio, lavora molto sui social, e mi ha detto che ogni volta che faceva un post, un tweet, un pezzo sulla plastica negli oceani aveva un livello di pervasività che era almeno il triplo di quello di qualunque altro tema, perché c'era una fortissima sensibilità, vedere immagini come quella di Plastic Beach generano una forte sensibilità. Poi è venuto a trovarmi un'associazione che si chiama Plastic Free, mi ha regalato una bellissima maglietta blu con la scritta Plastic Free in bianco davanti e una tartaruga stilizzata. Quando la mettevo d'estate al mare, al lago, vedevo che tutti guardavano e dicevano che è bello. Poi è arrivato il Covid e forse ci siamo resi conto tutti che pensare di non avere più la plastica nella nostra vita non è così semplice, non è così possibile. Ho fatto questo esempio perché il problema più grande quando parliamo di economia circolare, di gestione dei rifiuti, è non fermarci alla superficie, è fare la fatica di andare in profondità, di non limitarci a quello che genera emozione, anche se ha un fortissimo impatto, ma di provare a capire cosa c'è dietro. Perché altrimenti se ci fermiamo sulla superficie, sia che questa ci porti a dire non vogliamo più nulla, per esempio non vogliamo più la plastica, sia che ci porti al contrario a dire sono tutte fesserie, avete visto di quanto abbiamo bisogno della plastica, ci portano su una strada sbagliata. L'economia circolare comincia nella nostra testa con la capacità di guardare la realtà per quello che è, non per come ci sembra, per questo adesso vi farò vedere dei numeri e dei dati, perché la realtà per quello che è la vediamo se abbiamo l'umiltà di capire come sono le cose. Altra considerazione in premessa che faccio è questa, il primo elemento che ci deve spingere a capire che abbiamo bisogno di economia circolare è una constatazione elementare, noi siamo tutti dentro un modello di sviluppo che è quello che è nato dopo la rivoluzione industriale, che parte dall'idea che possiamo costruire un modello di crescita infinito. Io ho studiato economia politica, il modello ideale è un sistema che cresce del 3% l'anno all'infinito, quindi se lo dovessimo rappresentare con un grafico sarebbe una retta che cresce linearmente sempre di più. Ma com'è la forma della terra? La forma della terra è rotonda, la terra è una sola e le risorse che ha, che mette a disposizione sono quelle. Capite che coniugare un modello di una retta che cresce all'infinito con una disponibilità di risorse che è descritta da un cerchio è difficile. Noi cento anni fa eravamo due miliardi sulla terra, cento anni fa, oggi siamo otto miliardi e quelli che sono entrati nel circuito del benessere sono molti di più di quelli che erano nel circuito del benessere cento anni fa. È evidente che questo porta un consumo di risorse che non conoscevamo in passato. Allora abbiamo bisogno di un modello di sviluppo diverso, però attenzione deve essere un modello di sviluppo, non possiamo pensare che la soluzione è tornare indietro e anche per questo dobbiamo capire in profondità come stanno le cose. Plastic Beach colpisce moltissimo, quelle immagini hanno fatto, hanno provocato come dire un rifiuto anche dentro di me, ma per esempio la plastica che fa più danni, quella più pericolosa, non è quella che galleggia sui fiumi, sono le microplastiche, anzi le nanoplastiche, quelle più piccole di un micro, che noi non vediamo, ma sono quelle che possono passare la barriera alimentare, possono passare la barriera intestinale dei pesci ed entrare nella catena alimentare e quelle non sappiamo che danno fanno. Per questo primo contributo che voglio darvi è guardiamo dentro la realtà. Allora io voglio farlo cominciando con alcuni numeri. Questi sono i dati della produzione totale di rifiuti urbani in Lombardia, come vedete sono dati che vanno dal 1995 al 2019. Come vedete noi produciamo in Lombardia circa 4,7 milioni di tonnellate di rifiuti urbani. Se vedete l'andamento, fino a una quindicina di anni fa continuavamo a produrre ogni anno più rifiuti dell'anno prima. La popolazione cresceva e i rifiuti crescevano con la popolazione, la popolazione con la linea rossa. Poi abbiamo imparato a disassociare le due linee, la popolazione continuava a crescere ma i rifiuti calavano. Questo è un fatto molto positivo, è il primo obiettivo che dobbiamo raggiungere, ridurre la produzione di rifiuti. Se guardate i dati degli ultimi anni la tendenza si è invertita. Siamo ritornati a far crescere i rifiuti e questo dice che c'è un problema. Dobbiamo ricominciare a tornare sul circuito virtuoso che avevamo imboccato della riduzione dei rifiuti urbani. Questa seconda slide fa vedere qual è il primo strumento che possiamo usare nella prospettiva dell'economia circolare che è la raccolta differenziata. Come vedete la raccolta differenziata in Lombardia è cresciuta costantemente in questi 25 anni ed è arrivata oggi anche a valle di un cambio di calcolo di quello che va inserito nella raccolta differenziata, per esempio i rifiuti da spazzamento delle strade, oggi siamo al 73% in Lombardia. Fatto 100 i rifiuti urbani, quasi tre quarti sono raccolti nelle frazioni differenziate, il vetro, la carta, l'alluminio, la plastica, la frazione organica. Questo è un fatto molto positivo perché la raccolta differenziata è il presupposto per il recupero e il riciclaggio di questi rifiuti. però quello che conta non è solo se i rifiuti li raccogliamo in modo differenziato ma se poi abbiamo gli impianti che ci permettono effettivamente di recuperarli e se raccogliamo i rifiuti in modo differenziato ma poi non abbiamo gli impianti e li rimettiamo insieme e li ributtiamo in una discarica capite che questo non serve a nulla. Il dato veramente significativo della gestione lombarda dei rifiuti urbani è questo qui. Noi come primo destino oggi recuperiamo come materia il 62,3% dei rifiuti urbani, cioè quasi due terzi di tutti i rifiuti urbani ritornano a essere materia riutilizzata, riciclata, riutilizzata. Cosa ne facciamo di quello che non recuperiamo come materia? Della cosiddetta frazione residua, del sacco che abbiamo in casa tutti noi del secco, cosa ne facciamo? Questo lo possiamo utilizzare in due modi, o lo mettiamo in una discarica, in un buco o lo utilizziamo come combustibile alternativo per produrre energia e calore in termovalorizzatore. In Lombardia abbiamo scelto questa seconda strada. Il 22,2% dei rifiuti che non sono recuperabili come materia sono recuperabili come energia, come combustibile al posto del gas o del petrolio per produrre energia e calore. Per questo sono importanti i termovalorizzatori. In Lombardia ne abbiamo 13, adesso 12 perché uno è stato trasformato in una via piattaforma per il trattamento dei fanghi da depurazione su 37 in Italia e avere i termovalorizzatori serve perché ha permesso di arrivare all'obiettivo che ci siamo dati 25 anni fa di non portare più nulla in discarica. Se vedete 25 anni fa tre quarti dei rifiuti andavano in discarica tal quale. Oggi non è più così. e anche la frazione residuale, il cosiddetto sacco del secco indifferenziato, come vedete si sta riducendo in quantità e l'istogramma ocra era quello che andava in discarica, la gran parte andava in discarica, oggi in discarica non va più nulla. Oggi vengono trattati, l'istogramma giallo, come combustibile alternativo nei termovalorizzatori poco più di un milione di tonnellate su 4,6 oppure vanno nei impianti di pretrattamento. Un'altra cosa che dobbiamo capire e sapere che è importantissima è che i rifiuti urbani sono solo un piccolo pezzo del problema. Noi quando pensiamo ai rifiuti pensiamo sempre ai rifiuti urbani ma il grosso dei rifiuti che dobbiamo gestire sono i rifiuti speciali, quelli delle attività produttive. I rifiuti urbani in Lombardia sono 4,7 milioni di tonnellate, i rifiuti speciali sono 33 milioni di tonnellate e se guardiamo come sono composti, vedete l'istogramma a sinistra, ci sono 14-15 milioni di tonnellate di rifiuti inerti da costruzione e demolizioni, le macerie, ma 18 milioni di tonnellate di rifiuti veri e propri. Ecco, di questi come vedete nella parte destra noi ne recuperiamo più dell'80% come materia e questa capacità di recupero è cresciuta nel tempo perché i rifiuti speciali, mentre i rifiuti urbani abbiamo imparato a ridurli, a stabilizzarli, i rifiuti speciali crescono fortemente, le attività produttive generano sempre più rifiuti. Dobbiamo lavorare soprattutto su questi. Come facciamo a farlo? Lo facciamo con strumenti come l'osservatorio dell'economia cicolare e la transizione energetica, cioè la prima cosa che io ho voluto nel 2018 diventato assessore è stato un tavolo con tutti gli operatori. Le politiche di gestione dei rifiuti non si inventano nel chiuso degli uffici pubblici, si costruiscono nel dialogo con gli operatori che operano in questo sistema. La forza della Lombardia è che abbiamo cittadini che fanno il 73% di raccolta differenziata ma anche che abbiamo 3.000 imprese che operano in questo settore e che hanno costruito un sistema industriale che ha consentito di recuperare appunto quello che raccogliamo in maniera separata per dargli nuova vita. In questo osservatorio, dentro questo osservatorio sono nate una serie di tavoli tematici, qui vedete quali sono, uno di questi è dedicato alle plastiche, ma non ci sono solo le plastiche, ci sono appunto i rifiuti da costruzione e demolizione, i fanghi da depurazione, le scorie di fusione, lo spreco alimentare e così via. A noi interessano le plastiche, dal tavolo delle plastiche sono emerse questi principali elementi, tanto che bisogna lavorare sulla comunicazione, quello che dicevamo prima. Il tema delle plastiche suscita grande apprensione ma è solo un pezzo di un sistema più ampio, tra poco vedremo quanto grande è questo prezzo e dobbiamo imparare a valorizzare i prodotti riciclati. Oggi nel campo della plastica il prodotto riciclato è ritenuto un prodotto di serie B, non è così? Dobbiamo fare come è successo nel campo del legno, oggi i mobili fatti con il legno seconda vita, con il legno da riciclo, sono venduti e hanno un valore di mercato più alto di quello dei prodotti fatto con legno vergine perché gli architetti hanno capito che oggi vendere un prodotto riciclato è più appealing che vendere un prodotto vergine, nel campo della plastica non è così. Per questo abbiamo avviato anche una serie di studi e ricerche con le università e abbiamo capito che dobbiamo imparare a riciclare la plastica con metodi diversi. Cosa succede oggi? Grosso modo succede questo, fatto 100 della plastica prodotta noi ne raccogliamo 50, quindi c'è ancora 50 che va in giro come ci ha fatto vedere Luca Bete con modalità che non vanno bene, dobbiamo imparare a raccogliere di più e vedremo tra poco che stiamo lavorando molto su questo, ma anche quel 50 che abbiamo raccolto lo recuperiamo solo per metà, quindi di fatto recuperiamo solo circa un quarto, perché? Perché oggi il riciclo della plastica avviene pressoché esclusivamente con tecnologie meccaniche, sono state messe a punto nuove tecnologie che permettono di recuperare la plastica anche con processi chimici di depolimerizzazione che riportano la plastica ai suoi componenti essenziali. Questo è fondamentale per quella parte che si chiama Plasmix di plastica fatta con i polimeri meno riciclabili, più poveri, che oggi non possiamo recuperare. Ci sono delle tecnologie che hanno costruito delle torri di raffinazione che dalla plastica mista producono degli oli combustibili che per esempio possono sostituire il bunker oil delle navi e sono molto meno inquinanti del bunker oil che è la parte peggiore dei derivati del petrolio. Da questo è nato il progetto Plasteco, un progetto europeo che nasce per migliorare il recupero della plastica, è un progetto a cui la regione Lombardia aderisce, che ha questi contenuti, vuole incoraggiare la riduzione dell'utilizzo degli imballaggi di plastica, promuovere la plastica riciclata, implementare i principi del clean public procurement, cioè che le istituzioni devono usare prodotti riciclati, evitare l'abbandono dei corpi idrici, evitare il plastic beach come abbiamo visto prima e proporre l'uso dei fondi europei per sviluppare tecnologie migliori. A che punto siamo? Siamo al termine della prima fase, è un progetto che è nato per mettere insieme esperienze europee e produrre un action plan. Entro un anno e mezzo metteremo a terra questo action plan che ha lo scopo di mettere in campo una serie di strumenti concreti a livello europeo per fare le cose che abbiamo detto prima. Però io voglio chiudere facendovi vedere alcuni numeri che sono questi. Abbiamo visto prima la raccolta differenziata. Quanto pesa la plastica? La plastica vale sulla raccolta differenziata che complessivamente è più di 3 milioni di tonnellate, la plastica vale 290 mila tonnellate. Quindi attenzione, la plastica in quantità è poco più di un decimo di quello che raccogliamo dalla raccolta differenziata e ne produciamo circa, lo vedete a destra, meno di 30 kg l'anno. Se parliamo della frazione residua sono più di 130 kg l'anno. La plastica non è la principale voce tra i rifiuti in Lombardia, anche se lo vediamo qui in termini di volume, siccome pesa poco conta di più, in termini di volume la plastica vale oltre il 30%. Se andiamo a vedere non solo quello che arriva dalla raccolta differenziata ma quella che intercettiamo complessivamente, vediamo che quello che pesa di più è la plastica multimateriale, cioè quella che è accoppiata da altri rifiuti. E come vedete questa cresce molto, mentre la plastica monomateriale è passata in 10 anni da 134 mila tonnellate a 170 mila, quella multimateriale è più che raddoppiata. questa è quella più difficile da gestire ed è anche quella che impatta di più e dobbiamo costruire le tecnologie che ci permettono di farlo. Lo stiamo facendo, sì, lo vediamo da questo grafico. La quantità di plastica che gestiamo, sia monomateriale che multimateriale, all'interno della provincia di origine del rifiuto. È cresciuta moltissimo. Quella che va fuori rimane pressoché costante. Perché? Perché le nostre imprese sanno costruire gli impianti per gestire queste frazioni. Questo è il punto. Dove la plastica non si gestisce è perché le istituzioni non hanno voluto autorizzare gli impianti e le imprese non li hanno fatte. Il Lombardia non è così. Quindi complessivamente la quantità di plastica che gestiamo negli impianti lombardi è molto più alta di quella che produciamo. Perché gestiamo frazioni che arrivano anche da fuori. Noi gestiamo 400 mila tonnellate che arrivano dalla regione Lombardia di imballaggi di plastica a cui se ne aggiungono 119 mila che arrivano da fuori. Gestiamo una quota minore di plastica da rifiuti urbani in senso stretto ma addirittura 889 mila tonnellate che arrivano appunto dai rifiuti misti. Questo è quello che ha l'impatto maggiore e su cui dobbiamo lavorare anche con le tecnologie innovative che vi dicevo. Una porzione significativa sono i rifiuti da imballaggio e finisco su questo. Quelli che interessano anche voi. I rifiuti da imballaggio valgono oggi circa 200 mila tonnellate. Sono quelli che possiamo gestire con progetti come rivending. Io sono arrivato e mi avete offerto un caffè qui di fianco ma il caffè era nel bicchierino. Noi tutti siamo abituati a bere il caffè e buttare via il bicchierino. Ho fatto un incontro con dei ragazzi di una scuola. Una volta c'era un ragazzo vivace sul tavolo c'era delle caramelle gli ho detto cos'è questa? C'è una caramella. Ho detto mangiala. Lui l'ha presa e ha fatto tutto quello che faremmo ognuno di noi. L'ha scartata e ha mangiato quello che c'era dentro. E gli ho detto e l'altro non lo mangi? Hai detto che è una caramella? Dice no questo non si mangia. E cos'è questo? Questa è la cartaccia. Questa si butta. Ecco noi dobbiamo partire dall'idea che invece non si butta. Che questa ovviamente non dobbiamo mangiarla. Ma non dobbiamo buttarla via. Perché è materia che possiamo recuperare. Nell'ambito dei rifiuti da imballaggio noi possiamo recuperare pressoché tutto. Questa è una bottiglietta d'acqua. È fatta con un tipo di polimero che si chiama PET. Il PET è totalmente riciclabile ed è riciclabile almeno 50 volte. Ecco noi questa plastica la possiamo recuperare per fare altre bottiglie. Se sta in un circuito di rifiuti alimentari per questo è nato un consorzio che oggi recupera le bottiglie di plastica nei supermercati perché possano rientrare nel circuito alimentare. E anche se non è nel circuito alimentare la possiamo recuperare per fare altri prodotti di plastica. C'è un'impresa in Lombardia che si chiama Montello che recupera 250.000 tonnellate all'anno di plastica e recupera anche 750.000 tonnellate di rifiuti umidi. È con questi impianti che noi possiamo risolvere il problema. Quindi ha ragione Abete quando ci dice attenzione la plastica non ha le gambe, non le cammina. dobbiamo cominciare nella nostra testa a essere civili e quindi a capire che tutto questo va recuperato. Ma dobbiamo anche sapere che per fare questo non dobbiamo dire no ogni volta che ci fanno un impianto vicino a casa perché per recuperare la plastica ci vogliono gli impianti. Altrimenti questo resterà una bella aspirazione ma non diventerà realtà. In Lombardia stiamo riuscendo a fare sia l'uno che l'altro e questo ci dà un modello che mi pare che sia all'avanguardia in Italia e nel mondo. Grazie per la pazienza e scusate sono stato un po' lì. Grazie a lei anche per l'irruenza che a volte ci vuole perché bisogna anche svegliarsi rispetto a certi temi, evitare tutti i nimbi. Abbiamo parlato molto di imbarlaggi, direttore protopapa, quindi passerei a lei senz'altro la parola. Ricordo un po' a tutti, 10-15 minuti era il target che ci eravamo dati quindi cerchiamo di starci dentro che siamo già fuori di un bel po'. Tanti temi comunque abbiamo già sul piatto quindi possiamo costruire su quelli. Assolutamente. Sentite? Ok. Proviamo in 10 minuti a dare un flash su quello che può essere per il mondo della plastica e dare un po' seguito a quello che diceva anche l'assessore. Questa è un'occasione importante, ringrazio ovviamente anche il presidente Piloni di questa opportunità. Il titolo è quello che in qualche maniera stiamo affrontando come consorzio da alcuni anni ed è quello di affrontare delle nuove sfide nell'ambito del riciclo degli imballaggi in plastica. Molte volte sentiamo parlare di plastica senza però avere la percezione di quanto questo materiale sia effettivamente presente nel nostro paese. Questi sono i numeri aggiornati al 2020 ma nel 2021 più o meno sono stati della stessa ordine di grandezza. In Italia si trasformano 7 milioni di tonnellate di plastica ogni anno, ne rimangono come consumo circa 5 milioni e mezzo. Ora per voi magari il numero non dà l'idea di che cosa voglia dire 5 milioni di tonnellate però vi ricordo che per una tonnellata ci sono 40.000 bottiglie di quelle che vi ha fatto vedere prima l'assessore. Questo vi dà la dimensione anche da un punto di vista dell'impatto che ha questo materiale nella vita di tutti i giorni comprese le sedie su cui siete seduti o la moquette su cui poggiano queste sedie. Quindi sicuramente un materiale che ci circonda, che ci aiuta nella vita di tutti i giorni. Il settore principale di applicazione come vedete è quello degli imballaggi, rappresenta oltre il 40% delle applicazioni delle plastiche ma rappresenta anche ahimè quello che per primo diventa rifiuto perché ovviamente l'imballaggio lo utilizziamo, scartiamo la caramella ed è subito rifiuto. Magari questa sedia su cui siete seduti essendo un bene durevole speriamo che duri almeno una decina d'anni. Però tendenzialmente tutta la plastica prima o poi diventerà rifiuto e quindi diventa necessario poi cercare di mettere in piedi dei sistemi che ci permettano di poterle recuperare e riciclare. Che cosa è successo intanto nel mondo degli imballaggi? Il mondo degli imballaggi ha subito delle variazioni importantissime in questi ultimi dieci anni, ne è cresciuta la complessità, abbiamo materiali sempre più performanti, se guardate la shelf life, il periodo di vita dei prodotti imballati oggi rispetto a dieci anni fa probabilmente più che raddoppiata. Sono cambiati i materiali che utilizziamo, la bottiglia in P&T è sicuramente quella più facile da riciclare ma abbiamo molti altri imballaggi che sono molto più complessi perché devono garantire delle prestazioni, abbiamo ovviamente anche delle tecnologie che non sono più adeguate rispetto a questi nuovi materiali e quindi bisogna trovare delle nuove tecnologie, abbiamo un problema di nuovi target, di nuovi obiettivi sia a livello nazionale che europeo che sono quelli che rivedete lì, la prima, la più importante e forse la più difficile da raggiungere in termini di obiettivo è quella di avere sul mercato 100% di imballaggi riciclabili, che non vuol dire riciclati ma vuol dire che bisogna lavorare moltissimo sulle tecnologie di produzione di imballaggi attraverso per esempio attività di ecodesign. Ecodesign vuol dire coinvolgere tutta la filiera dei produttori a partire dalle materie prime che sono ovviamente la parte di partenza ma arrivare fino alla progettazione dell'imballaggio e insieme anche del prodotto che va in quell'imballaggio. Corepla è il consorzio nazionale che si occupa dell'avvio, recupero e riciclo degli imballaggi in plastica in Italia, quando voi fate la raccolta differenziata questa plastica che mettete nel sacco giallo viene consegnata a Corepla, Corepla si occupa poi attraverso ovviamente dei partner che ha all'interno della filiera sia di selezionare le varie tipologie di plastica e poterle poi effettivamente avviare a recupero, quelle che non sono recuperabili come accennava anche l'assessore vengono comunque valorizzate attraverso attività di recupero energetico, non necessariamente termovalorizzatori, molti non lo sanno ma la maggior parte del recupero energetico non è più nel termovalorizzatore ma in attività sostitutiva a combustibili come il pet coke per esempio nella produzione di cemento, più del 70% dei nostri rifiuti raccolti e non recuperabili sotto forma di nuova materia prima vengono usati nei cementifici in Italia e all'estero per produrre energia e per la produzione di cemento. Se andiamo a vedere la raccolta differenziata in Italia è partita in maniera significativa nel 97 con la nascita di Corepla che ha preso le redini del controllo degli imballaggi in plastica da Re Plastic ed è una storia di successo, una storia che ha portato la raccolta differenziata da 100.000 tonnellate al valore di oggi 2021 di un milione e mezzo di tonnellate raccolte in Italia che porta il contributo pro capite da circa 2 kg a 25 kg pro capite. Quasi tutte le regioni italiane ormai sono allineate su questi dati, abbiamo alcune aree ancora un po' indietro soprattutto le grandi città della Sicilia e alcune città come Roma che probabilmente hanno margine per migliorare. A fianco alla nostra raccolta differenziata ci sono poi ovviamente le aziende che da sempre recuperano i loro imballaggi e li trasformano in nuove risorse. Qui alcuni numeri giusto per darvi anche un po' di informazioni per quanto riguarda il nostro consorzio. Noi gestiamo circa 1.300.000 tonnellate di questo milione e mezzo che viene raccolto, ne abbiamo avviate riciclo oltre 680.000, 300.000 le abbiamo avviate a recupero energetico. Effettuiamo controlli di qualità sia in ingresso che in uscita, abbiamo oltre 30 prodotti, serviamo oltre il 96% dei comuni italiani che sono convenzionati con il nostro consorzio, abbiamo clienti sia in Italia che in Europa, il che suona anche abbastanza strano trattandosi di rifiuti e per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente attraverso le materie prime e seconde fatte con gli imballaggi raccolti da voi, nella vostra attività di raccolta di tutti i giorni, abbiamo risparmiato circa 500.000 tonnellate di nuova materia primavergine e un milione di tonnellate di CO2 emesse nell'ambiente, quindi sono numeri decisamente importanti. Qui vedete un po' lo spaccato, come diceva anche l'assessore, il PET è certamente il contenitore più riciclato ma anche altri materiali ormai sono entrati in maniera stabile nel nostro mondo. Il riciclo però per come l'abbiamo inteso fino ad oggi non è più sufficiente, riusciamo a raggiungere alcuni risultati ma probabilmente dobbiamo inventarci delle nuove modalità di riciclo. Qui abbiamo messo alcuni esempi, quello che può essere per esempio l'utilizzo in ambito siderurgico, anche questa è una tecnologia che in Italia esiste da tanti anni ma che fa fatica a crescere anche per problemi di aspetti legati alle normative e soprattutto quello che abbiamo chiamato il riciclo chimico, riciclo chimico che ha diverse declinazioni, può essere depolimerizzazione, può essere pirolisi, può essere anche un recupero magari semplicemente termico. Qui abbiamo provato a riassumere quelle che sono le varie tecnologie di riciclo chimico più importanti, certamente quella che prenderà più piede è quella che noi chiamiamo plastic to plastic, qui siamo in un ambito di economia circolare, stiamo cercando di valorizzare la materia prima che abbiamo utilizzato dandogli una nuova vita, è fondamentale che attraverso il riciclo chimico quello che noi recuperiamo sotto forma di riciclo possa nuovamente essere utilizzata negli stessi settori applicativi. L'utilizzo negli imballaggi rappresenta oltre il 40% ma quello che noi poi possiamo utilizzare come materia prima seconda, quindi derivante da riciclo, sempre nel mondo degli imballaggi, in particolare degli imballaggi alimentari, è praticamente solo il PET. Attraverso il riciclo chimico creando di nuovo molecole che assomigliano, sono identiche a quelle dei prodotti vergini, possiamo rientrare nel circolo degli imballaggi e dare veramente vita a un'economia circolare. L'ultimo aspetto che è altrettanto importante ma che rappresenta probabilmente una sfida ancora più complessa è quella della raccolta selettiva, noi siamo abituati a fare la raccolta differenziata, a mettere tutti gli imballaggi insieme in un sacco giallo, questo ovviamente poi crea delle commissioni tra materiali un po' complessi da gestire a fine vita, ecco che Corepla per esempio si sta impegnando attraverso diverse iniziative tra cui certamente c'è rivending, ci sono le piattaforme per il polistirolo espanso, c'è il progetto plastic buster per i secchi delle vernici, ci sono nuove iniziative nell'ambito degli ecocompattatori, per le bottiglie con territori in P&T, queste sono modalità selettive che probabilmente saranno propedeutiche anche a migliorare la qualità degli imballaggi che andremo a recuperare e a permettere effettivamente l'avvio di un'economia circolare. E io con questo ho finito e vi ringrazio. Forse il mio microfono adesso è attivo, abbiamo parlato molto di plastic to plastic e adesso poi andiamo avanti su questo filone, sono comparsi qui come il comitato di pietra, i raccoglitori che devono proprio per l'appunto aiutare in questo tipo di selezione. Come anni fa io avevo visto in Germania per il vetro, il vetro verde, vetro bianco, vetro scuro, perché differenziare meglio ovviamente porta migliori risultati poi più avanti nelle possibilità di riutilizzo. Penso ci arriveremo, senz'altro c'è un tema anche di costi che va tenuto presente. Quando prima si diceva dalla plastica a rifare plastica, se è molto costoso, non deve essere solo attraente la plastica riciclata, ma deve avere anche un costo di mercato per il quale si possa poi utilizzare. Forse arriveremo anche a questo immagino con lei. Intanto Presidente Piloni, siamo arrivati appunto, il comitato di pietra è qua, il rivending è qui e quindi io c'è da lei il microfono. Buongiorno e grazie di essere venuti. Mi sentite? Grazie a tutti di essere venuti e con orgoglio che vi presento il progetto rivending. Rivending nasce da una collaborazione tra Confida, Corepla e Unionplast e ha l'ambizione di fare quello che facciamo quotidianamente in casa nel consumo on the go, cioè portare l'educazione del cittadino italiano anche quando consumano e fuori casa. Qui infatti la distribuzione automatica si è impegnata in modo importante e vediamo qualche numero dove possiamo, dove siamo e dove potremmo arrivare. In Italia abbiamo già installato 11.000 contenitori come questo che voi vedete, è stato realizzato apposta per impilare i bicchieri di polistirolo, questo ci permette di avere un recupero di un prodotto nobile. Non abbiamo grassi, non abbiamo vernici, non abbiamo materiali complessi da riciclare e con processi particolari, grazie alla collaborazione di Corepla, riusciamo a riprodurre e abbiamo l'ambizione nell'arco del prossimo futuro di riprodurre cap to cap. Quindi mantenere il ciclo alimentare della plastica recuperata. Ora, questa è la curva di crescita delle installazioni, chiaramente anche noi nel percorso abbiamo avuto uno stop da lockdown, ma oggi è davvero con orgoglio che presentiamo gli 11.000 contenitori installati. Il parco macchine, cioè i punti vendita in Italia della distribuzione automatica, sono ben 880.000. Questa è una rete distributiva che rientra nella quotidianità, perché noi tutti ci rechiamo con una consovenza e con abitudine nel distributore automatico e l'idea è nata nel caffè perché l'Italia è l'unico paese al mondo che beve il caffè in piedi. Noi abbiamo questa abitudine, per noi è uno shot, è un consumo di qualche secondo, ci rechiamo all'estero, facciamo fatica a trovare un bancone del bar per riconoscere le nostre abitudini, quindi prelevare il caffè dal distributore automatico e avere un contenitore accanto che ci permette di recuperare subito il rifiuto è per noi stata un'intuizione, un'opportunità. Da lì poi siamo andati in deriva e abbiamo preso il secondo materiale che copre insieme al caffè l'80% delle nostre vendite ed è il PET. Oggi il secondo contenitore che vedete a destra ci permette di recuperare PET al 100%, cioè consegniamo confezioni e sacchi di puro PET, quindi sia il polistirolo del bicchiere che il PET rientrano nei progetti rivending. Lo sforzo di comunicazione e di installazione è continuo con investimenti molto importanti perché vogliamo che chiaramente la diffusione ambisca ad arrivare a una percentuale sostanziosa di questi 880.000 punti vendita e capire che anche quando siamo nel fuori casa il riciclo e l'economia circolare è fattibile perché la distribuzione automatica si è impegnata di spontanea volontà in questa fase così importante. Abbiamo partnership di aziende che già hanno sposato il progetto, questi sono i power brand di aziende che chiaramente tutti noi conosciamo, hanno il ciclo completo di recupero del polistirolo ed è già funzionante a pieno nella collaborazione di tutti gli attori del progetto. Questo è l'intervento, sicuramente rivending è un'ambizione, un progetto che ha appena iniziato, un progetto che ha bisogno dell'investimento da parte di Confida e di Corepla per la diffusione e l'impegno di tutti noi a cercare un'economia circolare nella quotidianità. Grazie. Grazie anche a lei per averci svelato anche il percorso che avete fatto per arrivare a questo punto. Erika Simonassi è titolare, direttore marketing di Flow SPA, quindi andiamo proprio nel campo della produzione, voi siete del maggiore produttore europeo e quindi c'è di tutto, c'è pregi e virtù, insomma i problemi, c'è tutto nella vostra azienda. Sì, grazie, si sente? Si sente, perfetto. Sì, buongiorno a tutti. Io qui rappresento il produttore di imballaggi, quindi sono venuta per spiegarvi un po' quelle che sono le caratteristiche del nostro tipo di settore, quali sono appunto le difficoltà, le grandi difficoltà che abbiamo incontrato negli ultimi anni da quando appunto siamo stati inondati da questa battaglia contro la plastica che ha avuto sicuramente degli effetti positivi perché comunque ha scosso gli animi alcuni dormienti sul fatto che possiamo fare molto di più per l'ambiente, quindi gli imballaggi in plastica vanno usati ma dosati nel modo corretto, ma anche una serie di aspetti negativi che hanno comunque ostacolato tantissimo il lavoro di chi come noi cerca di fare le cose fatte bene, quindi di riuscire a fare sempre di più prodotti che abbiano un concetto di sostenibilità ormai intrinseca ma che vengono spesso comunque a scontrarsi con quello che è l'opinione comune, a volte semplicistica e ideologica che non fa bene comunque neanche alla sostenibilità. Partirei facendo, dunque sappiamo appunto che c'è stata questa direttiva europea che ha contro alcuni imballaggi in plastica che ha portato ad alcuni bandi di prodotti in plastica, di imballaggi in plastica monouso che erano considerati quelli che più si trovavano dispersi nell'ambiente, nei nostri mari, ha portato a concetti di riduzione negli anni di altri imballaggi in plastica come per esempio i bicchieri, i bicchieri in plastica per la distribuzione automatica, che usiamo nella distribuzione automatica, e poi c'è stato il recepimento in questi ultimi periodi di questa direttiva europea nelle varie nazioni. Io ho riportato qualche highlights delle nazioni più importanti per far vedere qual è stato il frazionamento, cioè ognuno l'ha fatto a suo modo poi questo recepimento, e questo certo non aiuta. C'è l'Italia che per esempio è molto blanda nel recepimento della direttiva oggi, infatti nonostante la direttiva parli di plastica, considerando plastiche, bioplastiche, carta con plastica accoppiata, per esempio i piatti delle feste dei bambini hanno una pellicola di plastica perché devono essere impermeabili ai liquidi, e anche questi erano nello scopo della direttiva, cioè banditi dalla SUP. Invece l'Italia ha detto nello scopo della SUP in realtà la bioplastica non ce la metto e non ci metto neanche la carta accoppiata plastica. Questo ci ha mandato in una procedura di infrazione e vedremo nei prossimi anni chi la vincerà. Poi c'è la Francia che invece è stata molto molto più severa rispetto alla SUP, tant'è che dall'anno prossimo in Francia non sarà permesso la vendita di prodotti monouso, di stoviglie monouso in store, per quanto riguarda per esempio fast food, cioè la McDonald's da gennaio dell'anno prossimo non potrà più servire i suoi hamburger in un prodotto monouso, ma solo riutilizzabile. potrà usare il monouso per l'on-de-go, cioè il McDrive funzionerà ancora con il monouso, ma il consumo in negozio, quindi all'interno, anche non solo nei fast food, ma anche negli uffici e per gli eventi dovrà essere tutto riutilizzabile. Poi arriva la Spagna, la Spagna ha cercato di forzare la produzione di stoviglie sempre più riciclabili, tant'è che ha proposto una tassa da inserire delle sanzioni, non delle sanzioni scusate, delle tasse, degli extracosti, che non sono solo tasse, da inserire sui prodotti monouso, da far pagare sui prodotti monouso in plastica vergine. Se però questi prodotti contengono della plastica riciclata, allora sulla percentuale riciclata non verrà applicata questa tassa, che è una gestione veramente complessa, tutta da vedere. In più ha proposto degli obblighi di plastica riciclata nei prodotti negli anni, per esempio, per le bottigliette in P&T, dal 2025 almeno il 25%, per il resto degli imballaggi in plastica che non siano in P&T, il 30% dal 2030. Arriviamo alla Germania, che è stata, si è per adesso fatta sentire solo sul fatto che esistono e sono obbligatori dei sistemi di deposito con cauzione per la raccolta delle bottigliette e delle lattine, quindi una raccolta selezionata, e poi ha dato negli anni degli obiettivi di inserimento di plastica riciclata al posto della plastica tradizionale, vergine, scusate. Finisco con l'Olanda, ho preso degli spunti dalle nazioni un po' più importanti a livello di consumo di questi tipi di imballi. L'Olanda è stata piuttosto rigida tanto quanto la Francia, ma spostato di un anno dopo, cioè dal 2024 l'obbligo dell'utilizzo in store nei fast food, negli uffici e per gli eventi, solo di prodotti riutilizzabili. A meno che, aggiungo, e ho scritto in azzurro, si usino bicchieri monouso e food container inseriti in un circuito di raccolta e riciclo di alta qualità. Cioè, praticamente, è come il progetto rivending. Alta qualità vuol dire che io utilizzo un monouso che poi riciclo e faccio tornare lo stesso prodotto. La filiera deve essere controllata, la filiera deve essere certificata, tra virgolette, ma in questo caso si potrebbe. Tutto questo per dire che questo frazionamento di idee porta a tanta confusione, però abbiamo estrapolato quelli che sono i concetti generali. tutti chiedono sicuramente l'utilizzo del riutilizzabile laddove sia possibile, laddove comunque non comporti delle difficoltà di gestione. Oppure il monouso va bene, ma si deve cercare di inserire sempre di più un prodotto riciclato, quindi in materia prima riciclata, in un'ottica, quindi, di economia circolare. Qui ho messo uno schema che è molto famoso, è il grafico della M Cartoon Foundation che spiega che cos'è l'economia circolare, in cui noi vediamo dove siamo noi, Flo, noi siamo i produttori e i designer, i produttori degli imballi, quindi noi abbiamo una grossissima responsabilità, perché come dicevano prima i miei colleghi, come diceva prima l'ingegner protopapa di Corepla, il prodotto deve essere costruito bene per essere sempre più riciclabile, quindi noi abbiamo la responsabilità di fare degli imballi riciclabili con la firiella del riciclo. Il rivending è assolutamente questo, noi produciamo per i bicchieri, per la distribuzione automatica, bicchieri che sono esclusivamente monomateriale, solo polistirolo, solo un materiale che non si confonde con le varie plastiche della raccolta differenziata della plastica tradizionale, quindi facciamo una raccolta di qualità a monte, proprio quello che dice l'Olanda, e poi con la filiera controllata arriviamo a non selezionare, perché è già selezionata a monte, il monomateriale, ma a produrre una materia prima e seconda che è pulita, pura, di altissima qualità e lo scopo di rivending, anche il nostro con rivending, è proprio il cup to cup, cioè dal bicchiere che noi usiamo alle macchinette che viene raccolto nei bidoni rivending, riprodurre ancora lo stesso bicchiere. Ecco questo l'ho messo così ma in realtà è soltanto, bisogna vedere soltanto i dati evidenziati in giallo per dire che già nel riciclo del P&T che è quello più avanzato di tutti, i dati, le caratteristiche del materiale dimostrano che tra materiale vergine e materiale 100% riciclato non cambia praticamente nulla, cioè la cristallinità del prodotto, la temperatura di diffusione, il modulo elastico, tante informazioni, tante caratteristiche della materia prima e del prodotto che viene fatto con quel materiale lì hanno dei valori tutti assolutamente paragonabili, non cambiano tra pieti vergine e pieti riciclato, quindi non è vero che con la plastica riciclata si fanno prodotti di scarsa qualità, questo ne è una dimostrazione. Noi internamente abbiamo fatto già da qualche mese una prova industriale utilizzando il materiale riciclato dal progetto rivending, abbiamo preso quindi il polistirolo che è stato raccolto di fianco alle macchinette e rifatto tornare la materia prima, l'abbiamo provato in un nostro impianto industriale e è risultato eccellente, nel senso che non abbiamo riscontrato caratteristiche fisico-meccaniche funzionali differenti dalla materia primavergine, cioè il bicchiere è tornato ad essere un bicchiere per distributore automatico, che comunque è un bicchiere tecnico. ecco qui ho fatto uno schema che è abbastanza sembra complesso ma è abbastanza importante da capire perché serve aumentare la quantità di plastica riciclata all'interno degli imballi a livello di sostenibilità ha molto senso perché comunque se io paragono qui ho messo delle barre in cui ho fatto 100 come performance massime il bicchiere è fatto con polistirolo vergine parlo sempre del nostro settore che è in questo specifico fiera il bicchiere automatico se io aggiungo una percentuale di materia prima riciclata che è il 20% vedo che la qualità comunque ho messo che cala leggerissimamente ma non è un dato significativo perché comunque nella raccolta della plastica generica ci può rimanere qualche impurezza qualche impurezza che poi potrebbe dare una piccola differenziazione ma che non è percettibile poi se invece lo faccio con i materiali riciclati da rivending la qualità non cambia nel senso che è già un monomateriale ed è come avere materia prima vergine spingendomi oltre non li abbiamo ancora fatti ma aggiungendo la materia prima il 70% di riciclato vedo che comunque la qualità soprattutto se è nel ciclo rivending non passa non cambia perché comunque è veramente una materia prima di alta qualità la riga arancione mi indica la carbon footprint del mio bicchiere cioè quanto emette quante sono le emissioni di CO2 nell'atmosfera durante il ciclo di vita di questo prodotto e questo è una misura è una delle più significative misure della sostenibilità perché riguarda il surriscaldamento globale meno CO2 nell'ambiente meno surriscaldamento e se io faccio 100 un bicchiere 100% polistirolo vedo che con l'aggiunta di polistirolo riciclato proprio perché vado a ridurre la quantità di materia primavergine estratta e lavorata il polimero vergine lavorato che dà una componente un impatto ambientale che è il più forte nel ciclo di vita di tutto il bicchiere togliendo quella componente lì vedo che più ne tolgo più io sono sostenibile più riduco la CO2 nell'ambiente quindi lavorare in questo modo che è un modo tecnico che è un modo che richiede tempo preparazione know-how e comunque un lavoro di gruppo di filiera è un modo giusto per ottenere il risultato che non è un risultato o tutto bene o tutto male se c'è la plastica tutto schifo e tolgo la plastica ho risolto il problema è un risultato molto più complesso che purtroppo è difficile da spiegare è difficile da accettare perché tutti vogliono tutto subito e quindi ho spento questo è il nostro bicchiere che chiamiamo hybrid che stiamo sponsorizzando in plastica che è del tutto simile come percorso di sostenibilità rispetto a quello che vi ho appena detto cioè ho preso un bicchiere tradizionale 165L tutto in plastica vergine ho ridotto la quantità di plastica all'interno del bicchiere mettendo dei sali al posto i sali che erano compatibili al posto del polistirolo vergine ho creato 165L hybrid riducendo le emissioni di CO2 da 15 a 11 grammi più o meno dopodiché abbiamo fatto un'operazione di ecodesign cioè abbiamo fatto un nuovo modello di bicchiere che è stato alleggerito quindi meno materiale utilizzato e che comunque grazie alla sua forma permetteva le stesse funzionalità nel distributore automatico rispetto a quello pesante perché la pesantezza è importante nel bicchiere scende meglio alleggerendolo puoi avere problemi con un'operazione di ecodesign abbiamo ottenuto un bicchiere che non aveva comunque problemi sgrammato più leggero con la miscela hybrid in cui ho tolto ulteriormente polistirolo ho ottenuto una riduzione importante ma il nostro obiettivo finale è togliere questo sali e aggiungere quello che è il polistirolo riciclato dal ciclo rivending e siamo convinti che impatterà ancora di meno sull'apporto di CO2 ecco l'ultima slide che forse introduce un po' la comunicazione quella che è la cosa difficile di questo periodo per noi comunicare quella che è la vera sostenibilità l'ho messa per farvi vedere cosa è successo allora la SUP ha detto ok la plastico è un problema mettiamo al bando alcuni prodotti per esempio le posate in plastica e le palette per i distributori automatici questi prodotti sono tutti fatti in Italia è il maggior produttore di queste cose sono riciclabili al 100% perché sono fatti di polistirolo che è riciclabile e sono assolutamente sicuri a livello alimentare perché la plastica è inerte è sicura non e cosa è successo l'alternativa qual era prima hanno tolto come diceva prima tolgo il mattoncino sì ma poi cosa ci metto ci hanno messo il legno quindi praticamente non ho le posate di plastica ci metto quelle in legno sono le uniche che posso usare che sono disponibili oggi e le palette di legno perché perché cosa ci diceva meno plastica nell'ambiente è un gesto concreto per aiutare l'ambiente perché per esempio nella mia città Parma sono nate le ecofeste che dicevano in grassetto meno plastica significa meno anidride carbonica e meno inquinamento queste posate in legno vengono tutte dalla Cina e dalla Russia non ci sono produttori europei non ci sono produttori locali non sono riciclabili vanno buttate nell'indifferenziato e la sicurezza alimentare perché poi alla fine magari troviamo anche il cinese che produce bene ce ne sono di cinesi che producono bene non sono tutti un po' così anzi sempre di più però prima devi trovare quello e poi durante il trasporto cosa succede perché comunque il legno non è la plastica è un materiale vivo quindi se io ho una contaminazione questa contaminazione può diventare un problema di sicurezza alimentare oltre a questo noi nella nostra associazione abbiamo fatto qualche anno fa abbiamo richiesto all'università di Torino facoltà di ingegneria di fare uno studio sul life cycle assessment cioè studiare il ciclo di vita di alcuni imballaggi in diversi materiali e vedere qual è quello che è più o meno sostenibile in base a diversi fattori di impatto qua vi riporto ancora una volta le emissioni di CO2 che è quello un po' più comprensibile un po' più semplice abbiamo per esempio visto che i piatti di plastica che sono stati studiati in questo studio e che sono stati banditi dalla soup sono stati sostituiti con i piatti per esempio in polpa di cellulosa anche questi made in China abbiamo fatto un confronto ho estrapolato dei dati da questa ricerca che è stata fatta dall'università di Torino e abbiamo verificato che le emissioni di CO2 nell'ambiente dei vari prodotti dei vari piatti fatti in diversi materiali in particolare qua sono in materiale polpa di cellulosa che è quello che ho messo nella foto bioplastica e plastica danno come risultato che la plastica è quella che emette meno in assoluto nel ciclo di vita come CO2 poi questi studi hanno dietro delle tecnicità che sono per esperti poi dipende da dove vengono prodotte le cose perché se io i piatti li producevo in Italia e la polpa la produco in Cina l'impatto soltanto per i trasporti soltanto per le produzioni cambia parecchio quindi dietro c'è uno studio piuttosto complesso da capire per chi non è del settore ed è per questo che poi si scrivono quelle cose lì meno plastica meno androide carbonica non è detto assolutamente un esempio è questo grazie a tutti grazie il microfono grazie sicuramente c'è da tenere presenti molti passaggi appunto per esempio tagliare degli alberi non è certo una buona pratica adesso Carlo Alberto Pratesi sicuramente interverrà anche su questo punto sicuramente una soluzione a tavolino che non tenga presente tutti i passaggi non è possibile come ci diceva l'assessore bisogna mettersi insieme e vedere peraltro l'Italia poi è anche notoriamente stata poco capace diciamo di difendersi laddove si doveva difendere e il risultato è stato un po' un po' zoppicante e poi rischioso per l'applicazione come ci diceva a lei ok grazie grazie allora sì cercherò anche di recuperare qualche minuto non so adesso quanti ce ne mancano ma insomma per fare un po' anche la sintesi allora il mio compito il compito che mi è stato dato è quello di parlare un po' di comunicazione abbiamo capito quanto tutti questi argomenti siano oggettivamente complessi e forse l'ultima slide di Erika li ha resi ancora più complessi cioè soluzioni che diventano in realtà problemi peggiori di quelli che si volevano affrontare ora io credo che il tema della comunicazione della sostenibilità parta intanto da un presupposto esistono delle preoccupazioni questa della plastica lo è stata senz'altro un'apprensione è stato detto che hanno dei periodi e che nella popolazione nel mondo subiscono delle impennate forse vi ricordate qualcosa sull'olio di palma se ne parla ancora no però in un certo momento è stato il problema poi c'è stato il problema dei sacchetti in bioplastica dell'ortofrutta costavano 0,1 centesimi manifestazioni rischiava la politica di avere delle sobbalzi per questo tipo di iniziativa poi è venuta la plastica la plastica è stato un grandissimo tema di discussione oggi un po' attenuato forse dal covid che ha dimostrato che serve ecco noi abbiamo queste mode ovviamente i temi della sostenibilità sono tantissimi altri ne arriveranno preannuncio che arriverà il problema dell'acqua che scarseggerà c'è stato e c'è ancora il problema dei diritti degli animali la sofferenza la biodiversità che si riduce le api gli insetti quindi noi abbiamo tanti piccole o grandi emergenze che si susseguono che però da sole non spiegano il fenomeno sono soltanto dei pezzi del problema che invece è un problema molto complesso ora il tema della complessità quando si fa comunicazione è un vero problema perché non tutte le persone sono in grado di comprenderla ma non per mancanza di conoscenze o di studio ma perché molti la rifiutano cioè si cerca o molti cercano di risolvere la complessità con uno schema e una grande semplificazione se volete lo vediamo anche nei problemi geopolitici anche quello che sta succedendo adesso con la guerra sono situazioni assolutamente complesse molto difficile definire con una parola o con una frase o con una variabile il problema e lo stesso vale per la sostenibilità quindi abbiamo una parte importante della popolazione che purtroppo a volte riguarda anche la politica a volte riguarda anche i media che cercano la frase ad effetto o la soluzione che risolva tutto appunto di volta in volta un prodotto un mattoncino eventualmente da eliminare e quando è così semplice la gente ha detto la gente ha la sensazione di aver capito vi avete visto forse sui social quella curva che si chiama curva di Kruger che fa capire che a volte le persone che ne sanno veramente di meno pensano di saperne veramente di più o perlomeno la percezione di saperne a volte inversamente proporzionale a quante informazioni effettivamente si hanno purtroppo questi sono temi che più informazioni si raccolgono e più c'è incertezza ed è una cosa che molte persone non accettano quindi la viralità le fake news si diffondono proprio perché c'è necessità di qualcosa che renda meno confuso il problema che invece purtroppo vi abbiamo detto è molto è molto articolato allora qual è la reazione che dovrebbero avere le aziende ma le aziende le organizzazioni che sono danneggiate da questi atteggiamenti a volte ideologici che proprio per semplificazione imputano la colpa soltanto a un pezzo della costruzione e magari anche determinano delle soluzioni che producono più danni di quelli che si volevano risolvere beh la prima consapevolezza e la prima risposta è capire che è un sistema e tutti gli attori devono collaborare ma un sistema non soltanto a livello di filiera qui abbiamo rappresentazione di una parte della filiera ma rappresenta un sistema complesso per stakeholder diversi oggi abbiamo qui i media abbiamo qui gli influencer abbiamo qui l'università abbiamo qui le associazioni i produttori gli esperti ecco è un sistema che può essere affrontato solo se c'è collaborazione tra attori che non sempre finora hanno collaborato ma per collaborare perché ci sia questo gioco di squadra occorre un messaggio occorre un obiettivo occorre un'indicazione chiara e quindi in termini di comunicazione la vera complessità è bene cosa dico sul quale tutti siamo d'accordo e sul quale tutti andiamo ad agire visto che la situazione è così complessa e qui c'è un'ingegneria della comunicazione piuttosto complicata per quanto riguarda la plastica parlando anche con Antonio e con gli altri abbiamo trovato una frase tra l'altro condivisa anche dal WWF tanto per dire quanto è forse quella giusta che ha la voce che tra l'altro adottata da un'azienda di recente che è Danone che ha molti problemi riguardo ai contenitori di plastica che non li può sostituire peraltro e la frase è zero plastica in natura sembra una semplice come dire parolina però spiegare che non è il problema di togliere la plastica è il problema di togliere la plastica dove non deve essere zero plastica in natura o eliminare la plastica dalla natura è oggettivamente la frase corretta attorno alla quale dovremmo tutti collaborare e su attorno alla quale dovremmo tutti ingaggiare dalle norme dagli assessorati e tutte le municipalizzate dai singoli e specifici consumatori che devono capire come si diceva la carta della caramella o la bastoncino col quale si è girato il caffè che non devono finire nel posto sbagliato non è il problema la plastica il problema è dove arriva quindi la mia diciamo suggerimento a tutto il sistema è il primo non procrastinare questo tipo di attività cioè se noi non ne parliamo altri lo faranno e lo faranno con quella semplificazione che giova in termini di comunicazione ma che è assolutamente deleteria quindi occorre parlare occorre trovare occasioni di incontro come quella di oggi per spiegare anche coi tempi giusti le situazioni complesse occorre avere un messaggio un obiettivo chiaro attorno al quale ingaggiare tutti i partner che sono interessati realmente ad una soluzione e poi occorre trovare persone che possano fare un po' da mediatori tra questi esperti perché il vero problema è che talvolta come dicevi tu Erika prendere i dati dell'università di Torino che dimostrano una cosa e trasferirli su una intervista magari di Laura o ancora di più e ancora più complesso su un servizio di striscia la notizia è difficilissimo perché si passa dalla scienza allo storytelling come fare a conciliare scienza e storytelling la mia regola è che scienza senza storytelling è accademia storytelling senza scienza quindi senza basi scientifiche è romanzo e a volte addirittura è fake news quindi la vera difficoltà sulla quale siamo tutti chiamati è proprio fare questo abbinamento tra una capacità di saper raccontare e spiegare dati e situazioni complesse se non lo si fa il rischio è che non abbiamo l'ingaggio magari proprio di quegli attori che rendono possibile il successo del progetto e quindi la comunicazione e questo è un po' il messaggio finale che spesso viene vista come l'ultimo pezzo di un percorso e quindi dentro facciamo il progetto poi lo comunicheremo non è così perché se non la fai all'inizio e non porti a bordo gli attori e non condividi con loro l'obiettivo il progetto rimarrà sulla carta e non porterà mai i risultati quindi benvengano situazioni come quella di oggi benvengano le azioni anche delle associazioni pensate negli anni passati si era pensato che le associazioni avessero un po' perso il ruolo c'era una sorta di disintermediazione oggi si scopre che le associazioni riescono invece ad avere esattamente questo tipo di ruolo un ruolo essenziale senza il quale la sostenibilità rimane un argomento molto interessante molto evocativo molto ideologico ma che poi nella pratica ha molta difficoltà a tradursi in risultati grazie anche per questa bella conclusione Carlo Alberto Pratesi si noi uniamoci armiamoci uniamoci armiamoci insieme grazie davvero a tutti voi che ci avete seguito con attenzione durante tutto questo tempo Venditalia e Confida ci hanno ospitato qui oggi grazie a voi per essere intervenuti buon proseguimento a tutti e allora zero plastica nella natura grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti